Salve a tutti ragazzi sono Zetawillix ed in questo nuovo video andremo a concludere i contenuti del DLC The Nightclubs perchè oggi vi parlerò dei 3 veicoli blindati da trasporto custom acquistabili su Warstock e Shakari più uno già disponibile senza bisogno di doverlo acquistare. I veicoli in questione sono lo Speedo Custom, il Mule Custom e il Pounder Custom e sono tutti i veicoli che il gioco vi farà utilizzare dopo aver acquistato il Nightclub. Sono veicoli che hanno un loro deposito a parte proprio come ad esempio i veicoli import-export, il jetpack, il cangiali, avete capito insomma se esplodono non dovete pagare niente, ritorneranno subito nel Nightclub e per chiamare a distanza un veicolo da trasporto non dovete chiamare meccanico ma usare il menu inventario, andare su veicoli e scegliere quale veicolo richiedere. Inoltre sono modificabili esclusivamente nell'officina del nostro Nightclub. Partiamo dallo Speedo. Lo Speedo Custom è il regalo dopo aver acquistato il Nightclub. Può trasportare 4 persone in totale e possiamo modificarlo premendo la crocetta direzionale destra. Praticamente cosa dovete fare? Dovete andare nel primo piano del vostro Nightclub e da lì appunto troverete l'officina per questi tipi di veicoli come anche lo Speedo in regalo. Insomma entrate nello Speedo, premete la crocetta direzionale destra e potete cominciare a modificare sia l'estetica ma soprattutto scegliere quali armi applicare al vostro Speedo. In questo caso possiamo montare delle mitragliatrici, una torretta calibro .50 oppure un minigun remoto. Notate bene, questi veicoli sono modificabili solo ed esclusivamente dentro il Nightclub. Non solo, abbiamo anche la possibilità di aggiungere le mine di prossimità, le livree che sono sempre quelle del DLC traffico d'armi e cose così insomma, le ruote eccetera eccetera eccetera. Se siete in lista ospiti in questi veicoli potete applicare due livree gratis, ovvero la livrea Mimetica Rosa e Verde e la livrea Multicolore 69. Quanto speso però per modificare il furgone? Perché qui che arriviamo diciamo a quella parte che Rockstar non vorrebbe farvi vedere, ovvero il costo delle modifiche. Praticamente mi è costato in totale 940.000 dollari per modificarlo e in quel diciamo veramente tantissimi soldi. Sono cose che Rockstar non vi mostra perché così lo modificate e non pensate al totale che avete speso per truccare sto furgone. Parlando delle prestazioni, a livello di prestazioni per essere un furgone se è modificato viaggia molto bene, ha un'ottima ripresa, una buona velocità e la manovrabilità non è niente male. E allora quale arma scegliere? Per usare l'arma ovviamente dovete innanzitutto premere quadrato e scegliere l'arma che avete appunto comprato nell'officina. Nel furgone solo l'autista può usare le armi. Innanzitutto lasciate stare le mitragliatrici, fanno altamente cagare e sono le stesse identiche che abbiamo visto nelle sportive classiche, in qualche veicolo inutile. Insomma avete capito quali tipo di mitragliatrici vi sto mostrando. Sono quelle armi che a malapena riescono a far esplodere un'auto dei civili dopo che è uscito il GTA 6 per farvi capire. Poi abbiamo la torretta calibro .50 che può essere una torretta utile però sicuramente non contro dei giocatori umani ma contro dei computer perché comunque possiede quella precisione che il minigun remoto non ha. Il problema è appunto il danno. Se un giocatore vi viene addosso anche con solo una super con un'armatura al 100% avrà il tempo di lanciarvi 30 miliardi di bombe adesive e già siete anche 7 granate a gas giusto per prendervi per il culo. Diciamo che è una torretta buona contro i nemici computer ma sicuramente inutile contro dei giocatori dato che ci mette veramente tantissimo a far esplodere anche solo un veicolo non blindato però con l'armatura al 100%. Sicché l'unica arma che consiglio è il minigun remoto che riesce a far esplodere i veicoli non blindati anche con l'armatura al 100% in pochi secondi. Poi è chiaro che comunque è un'arma decente che può proteggervi da nemici fino ad un certo punto. E' ovvio che se sta arrivando un Insurgent Pickup contro allora non è che possiate fare molto con lo speedo custom eh. Però la minigun ha comunque la sua utilità rispetto alle due armi precedenti. Chiaro che può fare fino ad una certa. Diciamo che questo furgone è molto simile alla Karinkuruma blindata è come se fosse se così possiamo dire il padre della Karinkuruma blindata. Se avete comprato delle mine chiaramente premendo il tasto del clacson impiazzerete le mine di prossimità e potete aggiungere fino a 5 alla volta. State attenti però a non confondermi altrimenti salterete in aria che è una bellezza. Purtroppo arriviamo a quello che ci fa capire che questi veicoli sono un flop di questo DLC. La resistenza e la potenza. I vetri se potenziate al massimo riescono a farvi proteggere dai proiettili fino ad un certo punto. Può resistere ad un massimo di 15 colpi però ragazzi è la cosa che veramente mi dispiace non sono tanto i vetri perché comunque ci sta 15 colpi ci stanno. Il problema vero è che un furgone del genere esplode con un solo esplosivo una sola granata neanche RPG o lancia missi la ricerca avanzata una sola granata ragazzi. È davvero triste scoprire una cosa del genere e non solo. Quando andate a sbattere contro qualsiasi veicolo nonostante ci sia diciamo quel puntone sul cofano pure con dei civili il furgone non tende a spingere veicolo come possiamo fare con la Phantom Wedge ma tende a schiantarsi proprio come col civile. Può essere frustrante dato che poi dobbiamo ripartire ogni volta col furgone qualsiasi incidente facciamo. A che cazzo serve questo puntone se poi tanto il furgone si ferma ogni 3x2? Non ha quella difesa che in molti si aspettano guardando un bestione del genere e non so quanto possa essere utile guidare una cosa del genere che magari ti trasporta 500 mila dollari in una sessione da 20 giocatori ad esempio. Va bene dai parliamo invece adesso del Mule Custom. Questo è un camion che invece è acquistabile su World Stock Esche Carry a 95 mila dollari oppure a 72 mila dollari se siete in lista ospiti. Ne potete comprare solo uno e andrà a finire sempre nel garage dei veicoli da trasporto del DLC Night Clubs. La stessa cosa vi renderete conto che vale pure per i Pounder. Pure con il Mule Custom possiamo truccarlo fino a trasformarlo in una vera bestia. Possiamo aggiungere sempre armature, livremine di prossimità e possiamo aggiungere le mitragliatrici come anche i missili. Mentre come arma secondaria possiamo aggiungere il lanciagranate remoto. Attenzione perché qua per modificare il Mule Custom ho speso più di un milione e 130 mila dollari. Le prestazioni del Mule per quanto puoi cercare di migliorarle fanno cagare. È un camion troppo lento? Come pretendi di fare dei trasporti con successo se mi dai un camion quasi inguidabile? Usare le mitragliatrici chiaramente è inutile, non ne sto neanche a parlare. Anzi, Rockstar Games, per favore togliete. Questa roba qui non le usa più nessuno. E chi le usa, anche se dentro il loro cervello ci stanno 50 Phanapton che giocano, morirà sicuramente perché non puoi fare nulla con queste mitragliatrici. Non puoi ammazzare nemmeno i poliziotti. Figuriamoci i giocatori umani. La situazione poi migliora con i missili, per carità. Potete anche sparare fino a 30 missili, che comunque è una capienza più che decente, va bene, più che accettabile se non li sparate a cazzo. Il vero problema è che non sono missili guidati. Se non siete pratici rischiate di esplodere molto spesso. Immaginatevi di essere sotto pressione contro un coglione che vi sta rompendo il cazzo. Voi sparate sti missili e poi magari vi ammazzate da soli perché eravate troppo stressati in quel momento, capite? Sono molto scomodi, non avete neanche il tempo di mirare quando uno vi mette sotto il suo mirino. Per me è come se fossero inutili. Il lancio a granate remoto è un'arma che invece può usare il passeggero. Chiaramente spara delle granate e fa il suo lavoro, non aspettatevi chissà cosa però ci può stare come aggiunta, è accettabile. Questo camion può trasportare fino a quattro persone, due all'interno, due all'esterno, però insomma quelli che staranno all'esterno sicuramente moriranno in due secondi essendo che non ci sono protezione. Il vetro come col vetro del furgone vi proteggerà fino ad un massimo di 15 proiettili e sì ragazzi pure questo camion del cazzo esplode con un solo esplosivo. Esplosivo di qualsiasi cosa sia chiaro, anche una granata del cazzo. Poi quando andate addosso ai civili pure qui il camion perde velocità. Perché nel trailer mi devi fare vedere che questi veicoli spostano tutto e poi quando gioco non fanno un cazzo? Mi sento un po' preso per il culo quando Rockstar Games fa queste aggiunte. Non fraintendetemi il DLC mi piace da morire, veramente bellissimo, ma quando mettono cagate come il bus o questi mezzi clickbait permettetemi di dire che se fossi un cliente di Sharkards mi sentirei altamente preso in giro. Tutto questo vale veramente un milione di dollari Rockstar Games. Ci rendiamo conto che l'Insurgent Pickup costa meno, un pelino meno se contiamo anche le modifiche ed è un veicolo 100 volte più utile? Flop anche questo camion. Adesso tocca a quello che è il bestione dei tre veicoli blindati ovvero l'MTL Pounder Custom. Il Pounder Custom costa 320.530 dollari oppure 241.000 dollari se siete in lista ospiti. Può trasportare 8 persone, 2 persone all'interno e 6 persone al lati del camion. Le modifiche sono sempre quelle degli altri due veicoli con la differenza che qua possiamo aggiungere il filo spinato che permetterà di fare in modo che nessuno riesca a salire sopra il vostro camion, che volendo potete salirci e rimanerci sopra pure se viaggia a velocità alta. Ma chi è quello scemo che rimane fermo col camion e soprattutto quale nemico stupido perderebbe tempo a salire sopra il tetto se basta farvi esplodere in aria con un solo esplosivo? Potenziamento inutile, meno male che si tratta comunque di una modifica economica. Una volta che l'ho truccato ho speso ben circa 1 milione di dollari per un totale di più di 1.320.000 dollari spesi in totale tra acquisto e modifiche. Se fate il calcolo delle modifiche totali dei tre veicoli blindati vi verrà fuori una cosa come circa 3.500.000 di dollari spesi. Rendetevi conto il prezzo di una deluxo scontata. Boh, non so che dire. Comunque le armi del Pounder sono il minigar remoto, i missili come i Mule Custom che sparano un missile alla volta ed infine la batteria di missili che spara invece 4 missile alla volta. Mentre le armi secondarie sono sempre lanciagranate remoto che può usare il passeggero come anche le mie di prossimità. Raga, il camion esteticamente spacca di brutto, è bellissimo, sembra un centro operativo mobile di ultima generazione ma è sempre uno schifo. Anche qua parliamo di un veicolo più da cazzeggio che non da trasporto. Non vedo tutta questa utilità se poi quando vai a guidare il Pounder questo robo innanzitutto va a 2 all'ora, pure se potenziato al massimo. Che poi non è neanche divertente da usare perché quando la polizia ad esempio mi bloccava io non riuscivo neanche a ripartire da quanto questo mezzo era pesante. Poi figuratevi cosa succede se invece guidiamo il Pounder Custom senza modifiche. Rendetevi conto. Ha chiaramente delle prestazioni schifose e voi vi direte eh ma cosa pretendi un camion? Sì ok è un camion. Però vi ricordo che il centro operativo mobile nonostante sia grosso viaggia comunque che è una bellezza per essere un camion della sua stazza. E lo stesso discorso sarebbe dovuto valere con questo Pounder a mio parere. Specie se parliamo di 20 aro di shark cards effettivi nel comprare e modificare sto coso gigantesco. Il minigun del Pounder è carino ma impraticabile. Non potete neanche fare in versione AU nel bel mezzo della guerra se state sparando e dovete sparare uno che si trova dietro di voi. E il discorso vale più o meno con i missili. Anzi i missili secondo me sono pure peggiori perché rischiate di farvi esplodere da soli dato che questo è un coso molto più enorme del Mule Custom. Con la batteria missili la situazione migliora ma giusto leggermente. Avete più mobilità nel mirare qualcuno dato che potete girarvi con la batteria missili ma il vero problema è che innanzitutto non potete passare i ponti con un'arma del genere. E se dovete trasportare un milione di dollari di roba? State sotto pressione seguendo la strada del radar poi scoprite che il camion non passa il ponte? Che cazzo fate? Anche queste no? Sono cose che veramente non capisco come mai gli sviluppatori non ci pensano. Tutte le armi sono scomode. Il lancio a granate è sempre quello che avete visto come appunto le mine di prossimità che reputo pure molto pericolose da usare in questo camion dato che si tratta di un camion lungo che riparte dopo tantissimo quando fate un incidente. Anche un incidente veramente molto banale. Avrebbero dovuto fare un lavoro migliore e soprattutto non avere troppa paura nel creare oggetti troppo bestiali perché secondo me questi veicoli non sono diventati buoni proprio perché gli sviluppatori magari avevano paura di creare dei veicoli troppo overpower. Invece sono uscite tre ciofeche inutili e costose. Ah giusto Willy non ci hai ancora detto con quante esplosioni il pounder esplode? Il gameplay ha risposto per voi. I vetri sono sempre quelli degli altri due dopo una quindicina di proiettili il vetro si rompe. Insomma ragazzi se potete evitate di comprare e modificare questi veicoli. Se proprio volete prenderli prendeteli per cazzeggio perché avete soldi da buttare però sappiate che sono veicoli inutili. Quindi niente ragazzi spero che questa guida vi sia tornata utile se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste tre cagate da cazzeggio inutili tra i commenti. Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti su questa espansione. Da ZWX è tutto noi ci sentiamo al prossimo video